Il Conservatorio Canepa di Sassari avrà a breve nelle sue sale un nuovo strumento, un organo elettronico con cui gli allievi potranno esercitarsi nello studio senza doversi recare nelle chiese della città, come è accaduto finora. A donare lo strumento di ottima fattura risalente agli anni 70 è stata nei giorni scorsi una benefattrice sassarese che ha deciso di mantenere l'anonimato o ha preso che il Canepa era l'unico conservatorio d'Italia a non possedere un organo e che a causa dei tagli e finanziamenti l'istituzione non avrebbe potuto acquistarne neppure uno quest'anno. Lo strumento è indispensabile per i suoi studenti. Posseggo questo organo da 21 anni, un regalo del mio padre adottivo e da ragazzina, ho imparato persino a suonarlo da autodidatta. Non lo avrei mai venduto a nessun prezzo ma da tempo desideravo donarlo per farlo rinascere. Credo che questa sia davvero l'occasione perfetta. L'organo sarà collocato nella sua nuova dimora in un'aula dell'istituto non appena l'emergenza Covid sarà superata. La donazione anonima dell'organo, ha dichiarato il Presidente del Conservatorio Canepa e Ivano Iai, di cui i nostri studenti avevano così bisogno, ha un altissimo valore simbolico. Mostra che esiste ancora l'altruismo ed esiste quella forma di generosità che nasce dal cuore e non chiede niente in cambio. Questo bel gesto non basta però purtroppo far raggiungere al Canepa la sicurezza finanziaria sufficiente per far fronte ai tanti progetti artistici e musicali programmati per l'anno accademico in corso dal Direttore Mariano Meloni e dal Consiglio Accademico. Il Conservatorio è perciò sindora riconoscente verso chiunque enti pubblici e fondazioni privati vorrà sostenere le sue attività.